Piano rifiuti Toscana L'Aula, dopo un ampio dibattito, ha approvato il testo emendato con 23 voti favorevoli e 11 astensioni. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di risoluzione del Partito Democratico collegata alla comunicazione dell'assessore all'ambiente Monia Monni e ha respinto gli atti presentati dalle opposizioni. Ad illustrare l'atto, che ha incassato il via libera dell'Aula, il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli. La sfida dell'economia, che si rigenera da sola, ha bisogno di una forte componente culturale da affrontare con strumenti nuovi, ma anche seguendo esempi vecchi, ha così dichiarato, ribadendo i principi di sostenibilità già inseriti in statuto. Questo piano vuol agevolare l'obiettivo dell'economia circolare, vale a dire un'economia che si rigenera da sola. Si tratta di una sfida, prima di tutto culturale, da affrontare con attrezzi nuovi, se così si può dire, che il piano vuol prevedere, ma anche recuperando abitudini vecchie, che erano quelle dei nostri avi che avevano appunto l'idea di non gettare niente di ciò che poteva essere riutilizzato e continuare ad avere una utilità. Questo piano sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove e moderne tecnologie per superare, e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi, l'utilizzo delle discariche, per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori. Per trovare invece le modalità per cercare di riciclare, di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei rifiuti. Ovviamente ci sarà anche una modalità nuova, un approccio che rende questo piano assolutamente non dirigista, perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di smaltimento e di riutilizzo. Ovviamente questo non vuol dire che c'è una cessione nei confronti del cosiddetto mercato, di quella che invece è una modalità e una prerogativa che deve rimanere saldamente in mano alla regia pubblica. Più che piano di rifiuti si tratta di un piano dell'economia circolare, è un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore, che sosteniamo perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in temi di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata. Gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili e poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare, colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale e con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano di rifiuti. Quindi vedo in questa comunicazione degli elementi positivi che tra la via sosterrà, monitorerà e soprattutto cercherà di rendersi protagonista per intercettare risorse comunitarie per fare in modo che poi questo che è orse oggi visto come un libro dei sogni possa diventare realtà. Siamo in ritardo di più di qualche anno, scorsa legislatura abbiamo aspettato per cinque anni il piano rifiuti e non è arrivato, siamo indietro su tutto, sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, quindi i cittadini toscani sono quelli che pagano tra i più alti in Italia il costo dei rifiuti. Sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no, ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è il rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale. E quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche, che è il grande nodo della Toscana. Oltre al 30%, il 34% dei rifiuti va in discarica, l'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%. Ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante, non lo diciamo noi, lo dice la comunità europea, e non sappiamo tra questo passaggio e quello dove vuole arrivare l'assessore Monni come si farà ad andare a smaltire i rifiuti. Già oggi noi andiamo a portare tantissimi dei nostri rifiuti urbani fuori dalla regione toscana per smaltirli, questo significa aumento di tariffa. Si dice no a nuovi termovalorizzatori, questo lo dice l'assessore, per poi essere contraddetto da una risoluzione del PD che invece dice sì, dove servono vanno riportati e vanno rimodernizzati quelli già esistenti. Io credo che ci sia una grande confusione interna al PD. La comunicazione è stata estremamente stringata e c'è da dire una cosa in positivo, che la maggior parte dei principi delle linee guida che sono esposti riprendono piedissequamente quello che noi per cinque anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto riguardo l'economia circolare, l'ambiente, il no agli inceneritori, alle discariche, quello che insomma ci chiede l'Europa. E poi ci sono tutti i lati però negativi. Il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione sta arrivando il piano rifiuti, perché queste sono ancora soltanto delle linee guida. Il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione e soprattutto non c'è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni, quando in realtà la Toscana da tempo sta aspettando un piano rifiuti serio che contribuisca davvero alla transizione ecologica, all'economia circolare e soprattutto non secondario ad abbassare le tasse su rifiuti a tutti i cittadini. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Il testo emendato, dopo un lungo dibattito, è stato approvato con 23 voti favorevoli e 11 astensioni, dopo aver trovato la sintesi in un emendamento che prevede l'obbligo per i cittadini di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La Regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente, che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50.000 alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione, di utilizzare questi fondi. È una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione secondo me è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica che non è più lo concetto di casa popolare come l'ha visto una volta ma inizia ad essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. È una discussione che è avvenuta prima della chiusura estiva che riprende oggi noi ancora non abbiamo discusso i nostri 2.500 emendamenti siamo in fase di discussione generale il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari però oggi siamo voluti andare avanti quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare accettiamo la rivisitazione della legge però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza è quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero perché un cittadino italiano, un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero quindi per il principio di equità così come lo dimostrano i cittadini italiani ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri per poter avere una casa popolare in Toscana dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza quindi questo è il principio cardine su cui oggi noi ci stiamo battendo per cui questa discussione si sta protarrendo per diverse ore Ad oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in Commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla Giunta regionale introducendo come criterio premiale la storicità della residenza e quindi la legge che è uscita dalla Commissione prevede un punto per tre anni di residenza anziché zero, due punti anziché zero per cinque anni di residenza tre punti anziché due per dieci anni di residenza a salire 15 anni eccetera eccetera quindi abbiamo voluto e in Commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla Commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in Commissione e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della Commissione cercheremo di migliorarla ulteriormente nel lavoro di Aula in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero appunto siano o no diciamo legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana in particolar modo nelle città toscane Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega se arrivi così tardi alla promulgazione di questa legge che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano queste persone non meritavano questo ritardo siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge Lombarda è che noi abbiamo sbagliato e ripetuto quindi bene che venga cancellato siamo meno d'accordo invece con le primialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana come è stato inserito dall'emendamento però non è così penalizzante come potrebbe sembrare quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti anche case popolari sfitte, senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno Grazie mille! 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 Grazie a tutti.